Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, sono Alexander e oggi siamo su Brawl Stars Ok, sono andato in un altro club, vabbè che sempre c'è MMA, Ivan, Gabriel, vabbè se il resto E comunque si chiamano il Pro 2021, ma se volete entrare al suo club, entrateci, tanto Saranno i migliori, arriverebbero andato a piacendo una madonna Allora, comunque se volete entrare al suo club, ecco, un altro club dovevo fare questa roba di mobizza, quindi baggare o qui? no 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 ancora adesso c'è 30 anni qua ho dato la pagina di romanzo allora ecco qua e le labbra sono morte e questo è la regola del tuo gioco le due fette uno quell'altro ok ragazzi ecco la porta ok metto un attimo cioè faccio un taglio ok ragazzi a questa volta c'è la finestra qua perchè veramente si vengono certi tempi di vento oddio che resta generale si cambia ok prima no dai aspetta che c'è il giorno eh è un bello grande che c'è il bo eccomi qua eh questa sera la 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 una skin o un qualcosa quel cosinno no e posso essere disomesso comunque in senso che ci sono messo non me lo scioppo anche questo non è che ha tanto senso brawl pass non me lo lascio a fare non è che gioco tantissimo a brawl pass ciao vabbè dai andiamo avanti con le partite comunque f***a sta canzone che hanno messo mmm buono è quello di provare quindi è proprio questo è quello di questo quanti c'è dentro eh 3,2,1 no,no,no 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 io quanto troppo verso dopo anche se non ci vedono tutti no,no,no ma cosa ci facciamo timidi e poi ne tagliamo ma no no gabby best no 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 ragazzi sei chiaro io potrei anche morirci eh sei chiaro però è chiarissimo vabbè però è difficile perché c'è un po' difficile che ci muoia no sto godendo eh io fai di volto a parlare ok ... 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 Non so come è stato commettito, facciamo delle facce su Brawl Stars con Johnny Infame Vediamo No, non vuoi andare qua Volevo stare a venire in un club di indietro, si chiama Unicuro 2021 Magari spesso da fare uno screenshot, vedete Poi se volete volete anche cacciare a fare uno screenshot dopo che siete entrati in club Inoltre dico, se volete venire eh Siamo insieme a un'amulizio Allora Che cosa? Sto perdendo con un amulizio Una, tre sceglie Questa è quella che ti dico, non c'è proprio Poi, ovviamente l'ho utilizzata male, però non non fa niente Ehi, vabbè, troppo culo abbiamo avuto Sto perdendo con un'amulizio Sto perdendo con un'amulizio Ok, andiamo a mangiare Non so se volete fare una partita Vediamo se gli impagano bene, però Almeno questo ultimo Sto perdendo con un'amulizio Sto perdendo con un'amulizio Sto perdendo con un'amulizio No Sto sbagliato E come crescerò? E quando troppo il secondo me è stato finito e tutto E' stato finito E' stato finito Stasera sono in live alle 18.35 Cioè alle 6.35 di sera E noi ci vediamo stasera in live Ciao